salve ragazzi amici del web sono andrea bruno mi trovo in viaggio in malesia ecco questo è un posto molto caratteristico è un guado di un fiume e spessissimo capita di incontrare posti come questo ovvero la strada arriva a un capolinea e la possiamo attraversare su uno zatterotto uno zatterotto tipo questo che ci porterà dall'altra parte ecco questo è molto interessante perché per chi non è abituato a questo genere di viaggi continuate a seguirci sul nostro sito internet e ci sentiamo alla prossima ecco qui è arrivata nel frattempo una macchina